Se vi serve un'aggiunta di soldi per il vostro account solo su PS4, scrivete alla pagina qua sotto in descrizione i primi due link in descrizione, sia Instagram che Facebook, è veramente molto affidabile e serio. Bella a tutti ragazzi, io sono Adria e benvenuti in questo nuovissimo video di GTA Online, questo oggi con l'aggiornamento settimanale come ogni giovedì qui sul mio canale. Mi raccomando, se ancora non siete iscritti, proprio per non perdervi questo video, i prossimi video appunto sempre di questo tipo di contenuto, mi raccomando andate qua sotto, iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche, così appena esce il video vi arriva la notifica e lo potete subito andare a vedere e rimanere sempre aggiornati su tutte le novità su GTA Online. Inoltre vi chiedo di lasciare un like, veramente importantissimo, che mi dà una grandissima mano, cerchiamo di arrivare e superare i 500 like per questo video, ve ne sarei veramente molto grato se ci riuscissimo. E detto questo, iniziamo subito con il video e iniziamo dall'auto sul podio. Iniziamo dall'auto sul podio che, come molti di voi che giocano da parecchio GTA Online sicuramente conosceranno, questa è la Adder, la Truffade Adder, praticamente una delle auto più vecchie, tra virgolette, del gioco e che era anche l'auto migliore del gioco, tipo nel 2013-2014. Questa qui era l'auto migliore che potevate acquistare per un milione di dollari al tempo, quindi veramente un'auto, tra virgolette, vecchissima, ma che secondo me è comunque un'ottima auto e per lo più la potete vincere gratis qui sul podio. Quindi mi raccomando, provatela a vincere come facciamo noi adesso, mi raccomando, fatemi sapere qua sotto, come sempre, nei commenti se siete riusciti a vincere l'auto. Ok, quindi giriamo subito la ruota, vediamo subito se riusciamo a vincere l'auto, facciamo così, giriamo la ruota, incrociamo le dita raga, mi raccomando, e vediamo subito se esce, mamma mia, scendiamo vicino, non ci credo. Vestiti di nuovo, è ripartita la maledizione dei vestiti, non ci credo, però siamo andati molto vicini, come vedete per due caselle praticamente avrei guadagnato, cioè avrei vinto insomma l'auto. Ora andiamo a ritirare qui il bonus, questo qui giornaliero di 1000 fish, che tra poco arriviamo a mezzo milione di fish e come vi ho promesso a mezzo milione di fish ci sarà il video dove appunto spenderò tutte le fish, nel senso farò tipo un mega partitone qui a blackjack, poker e tutte le attività qua del casino e andremo a provare perlomeno a vincere. Ok, vediamo subito le offerte di questa settimana e partiamo da Legendary Motorsport, vediamo cosa ci preserva questa settimana, partiamo subito con la Annis ZR350 che passa da 1.600.000 a 1.100.000 il prezzo normale e da 1.200.000 a 850.000 il prezzo in saldo. Poi se non mi sbaglio questa dovrebbe essere la nuova auto, la Cypher, se non mi sbaglio dovrebbe essere questa. Non gioco a GTA da due settimane adesso perché sono stato in vacanza per come alcuni di voi sicuramente l'hanno visto perché non ho caricato video, quindi probabilmente se non è di questa settimana ma della scorsa me la son persa, però credo sia di questa settimana. Ma fatemi sapere comunque qua sotto nei commenti per sicurezza, su questo non ne sono sicuro. Però comunque molto figa quell'auto, sicuramente ripresa dalla BMW e continuiamo a vedere le offerte. Abbiamo la Progen PR4, raga questa è una bella offerta, da 3.500.000 a 2.460.000, è più di un milione di sconto e la Progen PR4 è la migliore Formula 1 che potete acquistare su GTA Online. Quindi se vi piacciono le auto da Formula 1 acquistate assolutamente questa qui che è in offerta di un bel po', quindi questo è un acquisto consigliatissimo. Poi abbiamo la Overflood iMorgan che è passata a 2.165.000 dollari a 1.300.000, diciamo, stava di 1.299.000 però 1.300.000 e praticamente questa qui pure sembra molto figa a livello di auto però non mi ricordo se l'ho provata oppure no ma personalmente non l'acquisterei questa qui. Poi vediamo che altre offerte abbiamo, se ce ne sono delle altre, speriamo di sì, che è un bel po' che non gioco a GTA, mi aspetto un bel po' di offerte di cose simpatiche questa settimana. Vediamo un po', non credo ce ne siano altre ma comunque non demordiamo, almeno per quanto riguarda Legendary no, non ci sono più altre offerte. Ok, vediamo subito nel stato del San Andreas se abbiamo altre offerte, speriamo di sì, almeno ci sono un bel po' di offerte questa settimana. Vabbè dai, su Legendary non è andato malissimo, ci sono abbastanza offerte, poi una buona. Allora abbiamo la Michelli GT da 1.200.000 a 735.000 dollari, raga, buona offerta. E poi la Sabre Hotring da 830.000 a mezzo milione praticamente, quindi 300.000 dollari di sconto. E vediamo se abbiamo altre cose in offerta. Mi pare, no, queste sono sempre gratuite, mi pare di no. Queste sono sempre gratuite. E credo siano queste le offerte. Vediamo un po' per sicurezza se ce ne sono delle altre ma per il momento non vedo niente. No, infatti non credo. Eccoci qua, siamo arrivati alla fine. E niente offerte. Poi vediamo sul Warstock che offerte abbiamo questa settimana. Qui non mi sembra di vedere nulla, almeno tra i servizi in offerta. Vediamo se c'è qualche veicolo. Tra l'altro una bella offerta sull'Oppressor MK2 sarebbe veramente top. Vediamo un po' qui se abbiamo delle offerte. Ma non mi pare di no. No, niente offerte sul Warstock questa settimana, un po' misero. Per quanto riguarda il Warstock. Vediamo nell'Elitas Travel. Tante volte abbiamo qui il Blimp in offerta, raga. Hanno messo il Blimp e niente sul Warstock. Vabbè. Da 1.200.000 a 700.000, quindi una buona offerta a livello di quantità dello sconto. E il prezzo in saldo da 900.000 a 537.000. Se non ci avete niente da fare, acquistate il Blimp, insomma. Vi dico così. Poi abbiamo l'Alpha Z1. Da 1.600.000 a 950.000 dollari. Poi vediamo se ce ne sono delle altre. No, il Dodd è sempre gratis. E niente, queste due offerte. Ammazza, sull'Elitas Travel hanno messo l'offerta e non sul Warstock. Greve questa cosa. Poi vediamo Bennis. Ormai, vabbè, ci rinunzio io su Benni, però guardo sempre, sia mai che una di queste settimane mettono in offerta qualcosa su Benni. E vediamo nel Doctis. Infine. Allora, Yacht no, mi pare di no. E niente, niente Doctis. Ok, fatto ciò, andiamo a parlare di roba seria. Vediamo se c'è in offerta il casino. Partiamo subito con questo. Attico. Iniziamo subito. Vediamo se c'è in offerta l'attico. Ok, l'attico no. Vediamo i garage. Nemmeno. Quindi torniamo indietro. Vediamo sul Mage Bank. Foreclosure. E partiamo dall'Hangar. Vai, niente Hangar. C'è il Nightclub in offerta, raga. Nightclub, se non ce l'avete, acquistatelo. E dovrebbe essere un 40% di sconto questo, se non mi sbaglio. Vediamo un po' che questo è più. Sì, 40% di sconto. E raga, io vi consiglio di acquistare il Nightclub se ancora non ce l'avete. Come vedete io ho questo qui a Strawberry. Personalmente ve lo consiglio. Io mi trovo bene con questo qui a Strawberry. Perché è collegato bene con tutte, praticamente, le autostrade. Quindi è veramente molto comodo. In alternativa, beh, c'è anche tipo questi qua sopra. Da un milione adesso che sono in offerta. Che, tra virgolette, sono quelli più costosi. E niente, comunque io il Nightclub ve lo consiglio. Soprattutto se avete anche altri business. Perché lo collegate ai vari business. E ci guadagnate un bel po' di soldi passivamente. Tra l'altro, se non sapete come guadagnare milioni con il Nightclub. C'è una guida qua sotto in descrizione. La trovate anche sul mio canale. O cercando comunque su YouTube. O Google. Scrivete ZA96 Nightclub. Trovate sicuramente il video. E vi spiego come si fa a guadagnare un sacco di soldi tramite il Nightclub. Mi raccomando, non lo sottovalutate. Perché è veramente ottimo come business. Ve lo consiglio. Andateci a dare un'occhiata. Se ancora non sapete come funziona. Mi raccomando, molto importante. Poi continuiamo a vedere. La Clubhouse no. Ma credo sia solo il Nightclub a questo punto. Niente sala giochi. Niente base. E vediamo il bunker. Ok, quindi Nightclub al 40% di sconto. Ottimo. E vediamo tante volte per scrupolo. Qua si hanno messo il ceo o no. Niente ceo. E gli appartamenti. Guardiamo la lista delle proprietà. Facciamo così. Dal più basso. Di lusso. E nemmeno i garage. Ok. Per quanto riguarda le offerte. Credo sia tutto raga. Abbiamo controllato tutto. Quello che dovevamo controllare. Guardiamo giusto per scrupolo. L'Arena War. Proviamo a cambiare qua. Arena War. Niente. E nemmeno i veicoli dell'Arena War. No. Infatti. Perfetto. Quindi io direi. Adesso facciamo una bella cosa. Andiamo all'autoraduno LS. Vediamo che auto hanno messo qui sul podio. E soprattutto. Vediamo. Che missioni dobbiamo fare per vincere l'auto. Mi raccomando. Provatela sempre a vincere. Questa è molto più semplice rispetto a girare la ruota. Anche perché avete la garanzia di vincere. Quindi è molto più semplice sotto questo aspetto. Ok. Eccoci qui arrivati all'autoraduno LS. Come potete vedere. La macchina sul podio questa settimana. È una macchina uscita praticamente da pochissimo. Ossia la Pfister Growler. Che è una macchina che tra l'altro ho comprato. E modificato completamente. Trovate il video sul mio canale. Che è tra l'altro il video precedente a questo. Quindi l'ultimo video che trovate sul mio canale. Se volete vedere com'è l'auto. A livello di performance. Modifiche. Tutto quanto. Andatevi a vedere quel video. Perché vi faccio vedere tutto nel dettaglio. Comprese le modifiche. Per vincere quest'auto cosa bisogna fare? Sfida del veicolo del trofeo. Dobbiamo vincere 8 gare. Quindi nulla di molto semplice. Vincere 8 gare sprint. E una volta che le avete vinte. Possiamo riscattare il veicolo. Avete sempre una settimana. Fino a giovedì prossimo. Mi raccomando entro mercoledì sera. Fate le missioni. Cioè fate queste 8 vittorie delle gare. In modo tale che poi vi potete prendere quest'auto gratis. Anche perché ripeto. Ora vi faccio vedere subito su Legendary Motorsport. Tanto è tra le prime auto. Eccola qui. Come vedete questa qui è la Grawler. Il prezzo di acquisto. Senza lo sconto. Quindi senza il prezzo speciale. È 1.627.000 dollari. Quindi raga vi portate una macchina da 1.627.000 dollari. A casa completamente gratis. Per cui se non avete niente da fare. Fatevi assolutamente queste gare. E cercate di vincerle. In modo tale da portarvi a casa questa auto. E come ultima cosa. Ma non come meno importante. Vi faccio vedere le attività. Con le quali potete guadagnare soldi questa settimana. Se siete nuovi ve lo faccio rivedere. Tanto ci vuole un secondo. Andate su online. Attività. Avvia attività. Andate su create da rockstar. E poi andate qua su modalità competizione. Le modalità competizione. Vi consiglio di farle anche se siete rango basso. Perché vi fate un sacco di soldi. E un sacco di RP. Poi ogni missione diciamo che ha i suoi pregi. E i suoi difetti. Però comunque tramite queste missioni. Se non avete nulla. È il modo migliore per fare soldi all'inizio. Secondo me perlomeno. Per quanto riguarda le attività. Con soldi RP doppi questa settimana. Sono queste qui sotto. Quindi vendetta su ruote. Sia queste qui normali. Sia queste con strada tra parentesi. Basta che una volta che aprite le modalità competizione. Premete una volta freccia in giù. E subito le trovate qua. Tutte queste qua sono con soldi RP doppi. Guadagnate discretamente bene. E vi fate tanti RP. Quindi raga. Se non avete alternative per fare soldi. Non sapete come fare. Vi consiglio di fare questa attività. Perché vi fate un bel po' di soldi. E soprattutto un bel po' di RP. Inoltre vi ricordo che se non sapete come fare soldi. Qua sotto sempre in descrizione. O comunque sul mio canale. Trovate un sacco di video. Dove vi spiego come si fanno soldi. Soprattutto c'è la guida su come fare soldi nel 2021. Oppure c'è la guida su come iniziare a fare soldi. Quindi da zero. Partendo proprio senza nulla. E a tal proposito c'è anche la mia serie. Di diventiamo ricchi su GTA Online. Dove vi spiego appunto come iniziare da zero. Proprio passo passo. Quindi meglio di una guida. Vi faccio proprio ad episodi. E vi faccio vedere proprio le cose fatte bene. Molto nel dettaglio. Detto questo raga. Per quanto riguarda questo video è tutto. Vi ho fatto vedere le cose più importanti. Qualsiasi cosa ripeto fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Mi raccomando lasciate un bellissimo like. Veramente importante che mi aiutate un sacco. E detto questo noi ci vediamo nel prossimo video. Che uscirà presto. Quindi mi raccomando iscrivetevi al canale. Attivate la campanella. Noi ci vediamo alla prossima. Quindi da dire tutto un salutone. Bella. Ciao raga.